Amauri Sperezze al GF VIP 7, ma non sta vivendo bene questa esperienza nella casa. Lo ha confessato lo stesso pallanuotista durante la terza puntata del reality, andata in onda lunedì 26 settembre 2022 In realtà Alfonso Signorini si era accorto di un certo suo malessere, e al momento delle nomination gli ha chiesto spiegazioni Lo ha chiamato in confessionale, e, proprio perché gli era parso molto pensieroso e sulle sue nel corso della diretta, il conduttore ha provato a parlare con lui Stasera ti ho visto un po' arrabbiato. C'era qualche motivo particolare, ha domandato Signorini ad Amauri Sperezze Amauri Sperez GF VIP 7. Voglio tornare a casa Certo, lo sapete benissimo. Lo sapete benissimo il perché, ha risposto Amauri Sperezze senza nascondersi. No, non sto bene, non sto bene Ha continuato lanciando poi una frecciatina a Signorini, e al GF VIP 7 in generale Lo sapete benissimo, che sono dipendente dei miei. Avete regalato una foto a lui, perché a me no? Sapete che sono molto dipendente da mia moglie e dai miei figli Amauri Sperezze si riferiva alla sorpresa ricevuta poco prima dalla suo coinquilino Antonino Spinalbese All'ex di Belen Rodriguez, chiamato in misteri per parlare della sua vita privata, state fatte vedere e poi avere delle foto di sua figlia Luna Marie. E il pallanuotista voleva lo stesso trattamento, è evidente Vista la sua reazione, Alfonso Signorini ha cercato in qualche modo di rassicurare a Amauri Sperezze, che ha lasciato intendere di voler lasciare il GF VIP 7 se non dovesse ricevere un gesto esattamente come è accaduto per Antonino Il conduttore ha però chiuso spiegandogli, che nelle prossime puntate probabilmente potrà accontentarlo